Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questa settimana il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure anticontaggio. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate, tra il capoluogo e la provincia, 709 persone e 133 attività commerciali, 24 risanzioni complessive, comprese quelle in situazioni illecite tipicamente a interesse delle fiamme gialle, tra spaccio e uso personale di sostanze stupefacenti, contrabbando di sigarette, gioco d'azzardo. Più in dettaglio, i Baschi Verdi e il gruppo Pronto Impiego di Napoli, nel centro storico quartiere San Lorenzo, hanno sanzionato e segnalato all'autorità di pubblica sicurezza per uso personale di sostanze stupefacenti tre giovani, due italiani e uno francese, trovati in possesso i 4 grammi di marijuana e 1,6 grammi di hashish. Il secondo nucleo operativo metropolitano nel rione San Tommaso ha sequestrato all'interno di una sala giochi abusiva tre videoslot e 120 euro proventi illeciti delle giocate. Denunciato e sanzionato, il titolare per omessa tenuta è la tabella dei giochi proibiti e anche per violazione alla normativa anti-covid-19. In provincia, la compagnia di Ottaviano ha individuato un'associazione sportiva dilettantistica aperta al pubblico nonostante i divieti. Sorpresi all'interno due soggetti, uno di essi recidivo, che giocavano a biliardo, che hanno tentato di giustificarsi fingendo di allenarsi in previsione della partecipazione ad un appuntamento di carattere nazionale. Sequestrate anche tre slot machines accese e in funzione, ma non collegate telematicamente alla rete dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Disposta la chiusura dell'associazione per cinque giorni. Il gruppo di Frattamaggione, nel corso dei distinti interventi, ha denunciato all'autorità giudiziare un 25enne, sequestrando a Casoria, durante un controllo su strada, 60 kg di sigarette di contrabbando nascoste all'interno di porta e bagaglie. Sanzionato assieme alla sorella, che lo accompagnava in auto anche per aver compiuto uno spostamento non giustificato.